ok, eravamo arrivati a mostrarvi in Mozilla Hubs alcune cose interessanti, torniamo ancora in Hubs mostra e Hubs mostra abbiamo visto prima come creare direttamente una stanza con questi oggetti, ma vedete che questi oggetti li potremmo invece miscelare, remixarli in Spoke, cioè quindi la Gathering Hall, se facciamo un remix in Spoke è possibile cambiarne i contenuti tra l'altro con un lavoro, uno sforzo relativamente basso, quindi vedete che qui ci fa vedere praticamente e ci possiamo, e sto cliccando col tasto sinistro del mouse e posso, diciamo se faccio il tasto destro del mouse, posso usare SW, eccetera e navigare nella mia mostra, e quindi andiamo di nuovo quindi sono in volo, vado direttamente nell'oggetto su cui volevo mettere la mia immaginina vedete che in realtà la cosa è abbastanza semplice nel senso che quello che lui vuole quando clicco questo pannello è semplicemente un indirizzo di un posto vedete che è siglato come reticulum.io questo vuol dire che in realtà dovete avere un posto che per fortuna Mozilla Hubs rende disponibile in cui scaricare le vostre cose quindi noi andiamo sotto immagini qui ci sono tutte le immagini che avete caricato e poi qui possiamo, se avete le immagini del cane, eccetera queste, le potete prendere in teoria sarebbe stato l'ideale se le portava tutte insieme ma mi sa che se lo facciamo non funziona vedi, does not accept multiple files quindi dobbiamo andare su questo coso qua e mettergli uno per ciascuno prendiamo il cane e ci scarica il cane vedete, eccolo qua cane.jpg adesso concentriamoci soltanto sul cane per pannello cane lo mettiamo qua copia e lo mettiamo pannello cane sotto ok, quindi adesso abbiamo le due cose quindi il cane e il suo pannello famoso allora, come facciamo a mettere il cane qui? semplicemente clicchiamo su cane tasto destro e facciamo copy URL facendo copy URL la URL e l'image URL la mettiamo qua dove abbiamo selezionato l'immaginine cancelliamo la vecchia immagine che c'è ma ci mettiamo la nostra che è sempre un reticulum ma a questo punto vedete che quando premiamo abbiamo esattamente la nostra foto ed è messa con esattezza dove la vogliamo ora abbiamo bisogno di mettere anche un altro oggetto quindi innanzitutto cliccando qua vediamo che siamo selezionati abbiamo selezionato questa immagine ma possiamo questa immagine duplicarla quindi avere lui l'ha chiamata UPS logo PNG1 ma noi quando la duplichiamo questa immagine ok credo che siano no, sono altre quindi ce l'ha messa da un'altra parte allora facciamo una cosa un pochino più tasto destro navighiamo e andiamo questo è il retro quindi noi andiamo davanti ricordiamo che con shift si naviga più velocemente quindi andiamo sempre al nostro ingresso dove avevamo messo il nostro cane e qui semplicemente ci limitiamo a dire che vogliamo aggiungere una immagine semplicemente l'immagine la clicchiamo da qua sotto di immagini la clicchiamo e la mettiamo qui dentro ok e sì, secondo me poi alla fine il modo è migliore quindi vedete che l'immagine adesso non è allineata come la voglio quindi clicco su rotate e me la giro allora vediamo un po' se riusciamo a girarla perché dovrebbe essere il questo che la gira però girandola vedete non si vede più perché probabilmente si è infilata dentro il muro quindi noi la facciamo uscire e qui tasto destro S per tornare indietro e qui più o meno vedete che l'immagine o è dentro il muro o è fuori credo che se premiamo shift no, control ecco con control la possiamo muovere come vogliamo e come vedete il movimento con spoke è infinitamente più comodo che non da dentro il mondo quindi possiamo con control e poi se vogliamo ingrandirla ingrandirla usiamo la scala e usando la scala andando qua praticamente possiamo ingrandire il pannello quindi tutte queste foto possono essere messe e come vogliamo inclinate in maniera direi quasi perfetta addirittura la rotazione possiamo controllarla al grado qua vedete che la rotazione qui quando l'ho ruotato se volevo ruotare i 91 gradi adesso è 9 gradi 91 vedete che la ruoto esattamente quindi per i cultori e anche la scala posso controllarla da qua quindi se io voglio averla 1 piuttosto che 1,1 piuttosto che 1,2 piuttosto che 1,25 quindi è tutto molto estremamente più facile ora una volta che avete sistemato con queste tecniche quindi usando delle immagini già presenti che vedete che sono tante quindi possiamo tasto destro navighiamo se vogliamo modificare in realtà possiamo modificare tutte le immagini che vogliamo aggiungerne come abbiamo visto se vogliamo modificare questa immagine basta che la clicchiamo e poi gli cancelliamo gli mettiamo una urlo qualunque notate che se la urla esisteva da qualche parte già da qualche parte quindi per esempio se noi avessimo selezionato questo e qui c'è un'immagine che vogliamo metterle e qui abbiamo copy image address in teoria possiamo avere qui e metterci la nostra immagine non sempre funziona ma se funzionasse stiamo prendendo lì ecco vedete abbiamo l'immagine proprio presa dal sito senza neanche dovercela scaricare quindi è una direi che è veramente notevole il modo di gestire però vi consiglio di scaricare l'immagine giusto per capire che materiale avete fatto inoltre qui non si possono creare delle etichette al volo ma le etichette che eventualmente avete creato dentro dentro hubs hanno un indirizzo e possono poi essere riciclate anche qua dentro cioè adesso poi vi farò vedere come si fa comunque per pubblicare questa cosa si fa publish to hubs e quindi qui il project name gathering all remixed lo chiamo perché in realtà voglio vorrò questo genererà un remix una scena la nostra attribuzione possiamo dire by sala zar poi posso dire se consento di remixarlo facciamo save and publish quindi lui prende tutta la scena che io ho presa e vedete che mi fa vedere più o meno come va adesso visto che l'abbiamo tirata su da una scena già esistente più o meno valida credetici facciamo il publish della scena quindi fa l'upload del contenuto quindi è un po' un editing di un mondo virtuale ecco diciamo qui dovete capire bene la differenza fra scena e stanza cioè la scena è una stanza diciamo preconfigurata che si può utilizzare facilmente per generare tante altre simili e che però di per sé non è ancora una stanza bisogna poi concretizzarla generando una stanza partendo da quella scena quindi noi adesso stiamo praticamente quasi alla fine questa stanzina 100% ok quindi a questo punto avete la vostra scena quindi la scena diventa vostra e vi chiede di creare una stanza con questa scena quindi vedete che si chiama gathering hall remixed remixed from da dove è tirata fuori creiamo una stanza con questa scena quindi facciamo facciamolo la stanza come vedrete è a questo punto vedete che c'ha i pezzi che gli ho messo dentro quindi possiamo dire che questa qui è la mostra mostra di salazar però fatta con spoke con spoke che è quello che spoke quindi facciamo apply quindi entriamo nella stanza andiamo a vedere il cane famoso e vedete che il cane a questo punto esiste ah ecco ho messo rovescio lo schermo prima non me ne ero accorto quindi dobbiamo modificare questa questa cosa se no vi faccio vedere ancora intanto che ci siamo un piccolo trucco nel senso che qui metto ad esempio cane cane shift is e poi gli mettiamo che buy adesso non riesco a leggere il contrario però aspettate se vabbè cane buy e gli mettiamo uno certo xxx e se faccio come avevo fatto vedere la lezione questo questo bellissimo la bacchetta magica il cane buy xxx ha un link questo link che è questo signore qua lo posso fare ctrl c e diventa un oggetto che posso poi usare anche in hubs ora torniamo alla nostra bellissima scena che abbiamo visto che è essere sbagliata e andiamo tasto destro andiamo verso l'ingresso con shift e vediamo che abbiamo sbagliato perché qui il vedete che era al contrario quindi se clicchiamo l'oggetto la rotazione anziché 90 gli mettiamo credo che basti fare meno 90 e l'abbiamo giusta perfetto poi vi avevo detto che potevo mettere un'immagine nuova quindi per mettere un'immagine nuova vedete che qui c'è la mia scena eccetera ma dobbiamo fare un piccolo trucco nel senso che mettere innanzitutto un'immagine per esempio questa la mettiamo la mia scena che tra l'altro era fatta con quel sistema lì e poi qui nella image di questa immagine gli mettiamo quella che avevamo salvato prima vedete che abbiamo il cane e qui forti dell'esperienza di prima facciamo meno 90 e poi la spostiamo così in modo tale da col control la possiamo mettere e così potete se volete fare dei cartelli un pochino più facili meglio leggibili potete farli usando la bacchetta magica che abbiamo visto prima qui per sostituire la scena si fa di nuovo un publish quindi la cambiamo abbiamo aggiunto abbiamo aggiustato delle cose gathering all remixed la lasciamo inalterata la ripubblichiamo perché l'abbiamo corretta facciamo il publish della scene della scena quindi adesso dobbiamo di nuovo aspettare che faccia lo scarico di tutta questa scena sul su mozilla hubs speranzosamente ci piega un pochino di meno di prima ok ecco notate che mozilla hubs ha questa cosa meravigliosa per cui si possono sia comporre delle scene che sia con hubs cioè con spoke che come vedete è abbastanza preciso e anche comunque in in world in quel caso lì si è molto meno precisi ma si può si può arrivarci molto vicino quanto meno e poi quando siamo qui adesso questa cosa qui la cancelliamo il cane ok e poi dobbiamo ripristinare la scena quindi per ripristinare la scena dunque dovrebbe esserci il room mi ricordo se c'è dovrebbe esserci un modo per ripristinare forse le preferenze che c'è un mi ricordavo male allora semplicemente dobbiamo dirgli choose a scene questa e riscegliersi la scena le mie scene quindi gli mettiamo gathering hold remixed questa però forse ecco così sicuramente funziona nel senso che viene rinfrescata è sostituita con la scena che nel frattempo è stata migliorata ok andiamo a vedere se effettivamente c'è la corretta direi di sì abbiamo il cane e abbiamo l'immagine aggiustata ma dovrebbe esserci anche un comando quindi se facciamo bar ecco vedete se faccio la barretta mi fa vedere dei comandi e poi posso dire she scene e poi metterci la urla della scena e la urla della scena la posso trovare quindi qui nelle mie scene quindi mozilla hubs dunque spoke quindi abbiamo questi sono tutti i progetti vedete che qui c'è il mio progetto e questa qui è la scena che non mi ricordo se sia proprio questa ctrl c proviamo un secondo scene no non è una scena valida quindi dobbiamo trovarla ok direi che in realtà è molto semplice è sufficiente andare open in hubs anziché in publish e qui abbiamo l'indirizzo della scena che se copiamo e mettiamo qui quando facciamo il nostro scene e poi facciamo incolliamo questo indirizzo w9r eccetera allora vedete che provochiamo la rilettura della scena quindi chi ha i diritti di poterlo fare può alterare il contenuto della stanza aggiustando eventualmente dei problemi che sono venuti a creare e questo è estremamente interessante quindi alla fine possiamo farci la scena con il nostro contenuto questo è tutto scusate per il video un pochino più lungo ma credo che sia molto interessante per capire come inserire foto in realtà poi anche più che foto ma comunque inserire foto come inserire anche delle etichette fatte da dentro Mozilla Hubs cosa che in Spoke non è di per sé facile fare anzi impossibile o quasi e è tutto buonasera